In questa edizione di Salute e Società, Grand Angolo, un anno di oncologia, linfoma, lo studio Augment, tumore del polmone, il valore dell'immunoterapia, batteri, il clostridium difficile. Ben trovati da Marco Caracciolo. Nato nel 1999, Grand Angolo, un anno di oncologia, promosso dall'Accademia Nazionale di Medicina, ogni anno presenta ad un pubblico sempre più numeroso di oncologi, provenienti da tutta Italia, le novità terapeutiche più rilevanti in ambito clinico, selezionate dai principali congressi internazionali. È giunto alla ventesima edizione Grand Angolo, un anno di oncologia, un appuntamento fondamentale per la medicina, nato con l'intento di portare agli oncologi italiani le novità e le notizie più importanti, quelle che impattano maggiormente nella pratica clinica quotidiana. L'evento, svoltosi a Genova e promosso da ACMED, Accademia Nazionale di Medicina, fornisce una fotografia grandangolare, appunto, della letteratura internazionale, dei risultati presentati ai più importanti congressi a livello mondiale. Grand Angolo vede la luce grazie a una intuizione dell'oncologo Alberto Sobrero e contribuisce all'aggiornamento di un sistema sanitario italiano che, secondo le agenzie di rating, è il secondo in Europa e fra i primi dieci in tutto il mondo in ambito oncologico. Noi siamo passati da un'era in cui difficilmente c'era nell'arco di un anno più di due o tre cose che cambiavano la pratica clinica nelle 20-30 neoplasie conosciute, in un momento in cui adesso ogni neoplasia ha almeno 3-4 spunti terribilmente importanti e impattanti sulla pratica clinica ogni anno. Durante l'evento sono anche stati consegnati i premi per i 20 anni di Grand Angolo, oltre al premio Chirone per la formazione e la comunicazione scientifica e al premio alla carriera, andato al professor Leonardo Santi, nome storico dell'oncologia italiana. Ritengo che l'iniziativa del Grand Angolo sia fondamentale ormai per uno sviluppo concreto e realistico dell'oncologia. L'oncologia è una disciplina che comporta competenze diverse differenziate, ma hanno necessità di mettere insieme le loro conoscenze per uno sviluppo. Le novità che sono state portate avanti nell'ambito del congresso Grand Angolo in ematologia 2018 hanno riguardato vari campi dell'ematologia, dell'ematologia oncologica in particolare, quindi dalle leucemie al mieloma multiplo ai linfomi e anche a malattie ematologiche più rare. Ha il suo valore tanto di aggiornamento dei professionisti, ma anche di sintesi e valutazione dell'efficacia delle scoperte scientifiche che vengono messe in una prospettiva di utilità per il paziente, in modo che viene dato maggior peso a quelle evidenze che hanno una reale ricaduta sulla salute dei cittadini. L'infoma indolente recidivante refrattario. I dati dello studio Augment mostrano che la terapia con l'enalidomide e rituximab ha prolungato notevolmente la sopravvivenza libera da progressione rispetto a rituximab più placebo. L'Aument è uno studio di fase 3 randomizzato, internazionale, multicentrico, nell'ambito dei linfomi indolenti, ma soprattutto linfomi follicolari e un certo numero di linfomi della zona marginale, pretrattati. Uno studio con un random 1 a 1, braccio di controllo rituximab più placebo versus braccio di studio rituximab più l'enalidomide, che è il primo concetto di regime senza chemioterapia, un chemo-free regime, un immunomodulante che è l'enalidomide, un anticorpo anti-CD20 che è il rituximab. Quali sono i risultati dello studio? I risultati che saranno presentati tra meno di due ore qui a Lush sono veramente impressivi, nel senso che sia il primary endpoint dello studio, cioè la progression-free survival, che il secondary endpoint, risposta completa, durata della risposta, sono tutti statisticamente significativi a vantaggio del braccio dello studio, cioè rituximab più l'enalidomide, con un dato di significatività importante, per cui questo automaticamente dovrebbe diventare uno schema di terapia che sarà riconosciuto sia dall'ente americano, l'FTA, che dall'ente europeo, l'EMA, per la gestione dei farmaci e a tutto tono dovrebbe entrare nella real life come terapia di seconda o terza linea nel mondo degli linfomi indolenti, soprattutto gli linfomi follicolari, perché come ripeto i pazienti regolati erano a 358, di cui solo una sessantina sono linfomi della zona marginale, bisogna vedere se gli enti, nel momento in cui decidono l'indicazione ufficiale, riconoscono sia il follicolare e anche l'infoma della zona marginale, questo è da valutare. Quindi ricapitolando, le prospettive di cura di questo farmaco quali sono? La tolleranza è molto buona e sicuramente rispetto a rituxima da solo, ma anche rispetto ad altre chemi immunoterapie funziona molto bene con delle risposte che sono alla stessa stregua di una chemi immunoterapia, questo è stato dimostrato anche alcuni mesi fa con lo studio Relevance in prima linea in cui andava a comparare di nuovo R-square, l'enalumide più rituxima, verso la convenzionale chemi immunoterapia, bendamustina più rituxima, o CHOP più rituxima o COP più rituxima. Quindi è il primo esempio, come dicevo prima, dove due farmaci ben tollerati che non sono dei chemioterapici funzionano molto bene e quindi facilitano la qualità di vita del paziente ottenendo gli stessi risultati in termini di efficacia terapeutica. L'immunoterapia è ormai il trattamento di riferimento dei pazienti con tumore al polmone avanzato, in particolare in combinazione con la chemioterapia è efficace in tutti i pazienti indipendentemente dalla loro predisposizione ad una maggiore sensibilità all'immunoterapia. Come sono cambiate negli ultimi anni l'aspettativa e la qualità di vita delle persone colpite da tumore del polmone anche grazie alle novità poste in essere dalla medicina personalizzata? A parlarne è Federico Cappuzzo, direttore del Dipartimento di Oncologia e Dematologia Medica dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Siciliano, laureato con il massimo dei voti all'Università degli Studi di Palermo e con una lunga esperienza milanese, Cappuzzo è presto diventato uno dei punti di riferimento per la cura di quelle neoplasie pulmonari che negli ultimi anni hanno visto sviluppare un cambiamento nell'approccio terapeutico dei pazienti, con la necessità di informazioni biologiche più sofisticate rispetto al passato, elementi che hanno cambiato sia l'aspettativa di vita che l'impatto sulla qualità della stessa. E grazie alle terapie più innovative che sono rappresentate principalmente dalle terapie cosiddette a bersaglio molecolare o dall'immunoterapia, noi oggi fortunatamente prolunghiamo in maniera significativa la durata di vita dei pazienti e soprattutto impattiamo positivamente sulla loro qualità di vita. Basti pensare che l'utilizzo della chemioterapia, che un tempo era l'unica strategia possibile per questi pazienti, oggi si è considerevolmente ridotta. Fondamentale diventa la possibilità per i pazienti colpiti da tumore del polmone di poter accedere in maniera simultanea a tutta una serie di test di biologia molecolare importanti per definire le caratteristiche della malattia. Fra questi il test di ROS1, un gene la cui alterazione consente di utilizzare farmaci specifici, tra cui il crizotinib e successivamente l'orlatinib. Purtroppo in Italia si rileva ancora una serie di criticità legate all'accesso al test genetico per ROS1 di carattere culturale e soprattutto al sud. ROS1 è un gene la cui alterazione consente oggi di utilizzare dei farmaci molto specifici che hanno un impatto importante nel prolungare proprio la vita del paziente. Tra questi farmaci sicuramente il primo a essere impiegato è il crizotinib, un farmaco assolutamente attivo in questi pazienti che induce delle regressioni di malattia tra l'altro molto rapide, nell'arco proprio di pochi giorni. Purtroppo dopo un'iniziale risposta i pazienti tendono a un certo punto a esaurire la loro sensibilità al crizotinib e questo è il motivo per cui noi ci stiamo concentrando anche su alternative terapeutiche da offrire al paziente. Una di queste alternative può essere potenzialmente il lorlatinib che è un nuovo farmaco che sembra avere un'importante attività nei pazienti con riarrangiamento di ROS1 sia in colori quali non sono stati esposti al crizotinib ma anche in pazienti che hanno già ricevuto un trattamento proprio con questo tipo di farmaco. Il lorlatinib tra l'altro è un farmaco molto ben tollerato come il crizotinib con un'importante quindi efficacia proprio in pazienti con queste caratteristiche. Il tratto digestivo umano medio ospita ben mille specie diverse di microorganismi, il cosiddetto microbiota. Quando qualcosa sconvolge l'equilibrio di questo sistema alcuni batteri prendono il sopravvento, tra questi il clostridium difficile che può essere causa di sintomi particolarmente severi e pericolosi. Le ha tenuto una relazione molto interessante oggi durante il congresso focalizzata al crostridium. Oggi con cosa vengono gestiti i pazienti con questa infezione? Sì oggi i pazienti vengono trattati solo con due molecole più una che si ritiene più utile in contesti particolari quindi le due molecole più utilizzate sono la vancomicina per ROS quindi per via orale e il metronidazolo. Entrambi molecole attive e dotate di significativa risposta clinica di attività nelle infezioni a clostridium difficile. Quali sono i maggiori problemi nel gestire il clostridium? I maggiori problemi sono rappresentati dalla permanenza degli stessi fattori di rischio che hanno facilitato la prima infezione e quindi in questo panorama di persistenza di fattori di rischio particolare attenzione va alla gestione di un'eventuale recidiva che in alcuni contesti può essere misurata fino al 15-20% dei pazienti già infetti la prima volta. Ecco lei ci ha parlato di un nuovo antibiotico proprio per cercare di prevenire anche queste recidive e trattare i pazienti con l'infezione e prevenire le recidive che sono anche più pesanti diciamo anche per il paziente. Di cosa si tratta? Come funziona? La molecola è un anticorpo monoclonale, è diretto contro la tossina B del clostridium difficile quindi il principale determinante di flogosi e di infiammazione a livello della mucosa del colon e l'anticorpo monoclonale funziona legando la tossina B, inibendola e riducendo così significativamente il numero di recidive. In particolar modo la riduzione delle recidive è evidente nei pazienti che hanno più di 65 anni, in chi ha già avuto una recidiva, in chi è immunocompromesso, in chi è infetto con un determinato ribotipo batterico 0,27 e quindi ci offre la possibilità di andare a curare la malattia con l'antibiotico, quindi la malattia all'infezione del clostridium difficile e poi bisognerà cercare di contestualizzare in maniera giusta e adeguata l'utilizzo di un anticorpo monoclonale che ci consente di ridurre le recidive con tutto quello che è associato alla riduzione di una nuova infezione, di necessità quindi di nuovo ricovero oppure anche di ritardo, questa forse è la cosa anche più importante, delle terapie della malattia di base. Ecco, l'anticorpo bezotoxumab, ci dica meglio come si chiama? Bezotoxumab. Ecco, praticamente ha illustrato anche gli studi che sono a supporto della sua efficacia, cosa ci dicono? Nei pazienti trattati si è messo bene in evidenza come nella maggior parte delle sottocategorie, prima ho citato, oltre 65 anni immunocompromessi, già prima recidiva di malattia e ribotipo 027, appunto in diversi contesti la somministrazione dell'anticorpo monoclonale in aggiunta allo standard of care che è la terapia dell'infezione si è associato ad una significativa riduzione della recidiva. Quanto questo conta nella pratica clinica lo sanno i medici e lo sanno purtroppo bene i pazienti che vedono complicare, allungare l'adegenza e ritardare la terapia della malattia di base per una recidiva. Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.